Sono Laura Antichi, volevo farvi vedere come collegare le vostre icone social che avete attraverso il trascinamento messo nel vostro sito Weebly ai vostri account social. Allora una volta che avete trascinato le icone, cliccate ad esempio sull'icona di Facebook, andate in gestisci icone e esempio Facebook e mettete il vostro username del vostro account, in questo caso Facebook. Ok, così procedete con tutte le altre icone.